Gentili telespettatori buona giornata. Matteo Salvini all'aria che tira dice riaprire teatri e cinema ha ragione Dario Franceschini. E nel PD nuova bufera perché prima Bonaccini dà ragione a Salvini, Salvini dà ragione a Franceschini e Franceschini però non ha dato ragione a Salvini. Franceschini era l'uomo che diceva che Salvini era il più pericoloso individuo del 2019, gli aveva dato questo record dei primati, quindi Franceschini si è astenuto dal dire Matteo Salvini ha ragione, visto che lo reputava l'uomo più pericoloso dell'anno. E così Salvini, in collegamento con Mirta Merlino all'aria che tira sulla sette, parla delle dichiarazioni di Stefano Bonaccini che il 23 febbraio nello stesso programma aveva scatenato il caos nel PD perché aveva detto che Salvini era ragionevole nel chiedere la riapertura di bar e ristoranti dopo le 18. 18. Questo vi fa capire quanto sia basso il livello di ragionamento nel PD. Salvini dice che è giusto perché i ristoranti sono aperti a mezzogiorno e sono chiusi la sera. Se sono aperti a mezzogiorno devono essere aperti anche la sera. È ovvio, no? O se sono chiusi la sera devono essere chiusi anche a mezzogiorno. C'è qualcosa che non torna. E Bonaccini dice che in effetti ha ragione Salvini. Salvini ha detto una cosa di buonsenso. Bonaccini ha detto che è certo, Salvini ha detto una cosa ragionevole di buonsenso e il PD. Sono entrati nel caos. Capite la sciocchezza? Capite che questo partito non ha la mente lucida per capire... Beh, Bonaccini sì, Bonaccini è distante dai palazzi di Roma, ragione in un altro modo. Per questo che potrebbe e potrà cambiare il PD quando sarà al governo. Quando sarà capo del PD perché lui l'indiziato, numero uno, a prendere il posto di Zingaretti, l'uomo che ride. E così, capite che questo partito aveva improntato gli anni passati a combattere Berlusconi. Un partito che doveva come unica missione combattere Berlusconi. Poi temi economici, quello non c'era niente. Una scatola vuota che doveva combattere Berlusconi. Adesso la scatola vuota è rimasta. È rimasta perché all'interno non ci sono obiettivi. Gli unici obiettivi che ci sono sono quelli di scardinare i decreti di sicurezza di Matteo Salvini, cancellare le cose che ha fatto Salvini e magari... Sì, le uniche cose che pensano nel PD sono gli ussoli, i clandestini, aprire le porte alle ONG. Ecco, insomma, io mi stupisco sempre di più come ci siano un 18-19% degli italiani che votino per un partito vuoto, dove all'interno c'è solo adesso il contrastare Salvini e chi dice che Salvini ha ragione è un qualcosa che è inconcepibile perché se un partito si fonda sul contrasto a una persona, che adesso è Salvini, prima era Berlusconi, capite che dire quella persona su cui il partito ha le sue fondamenta, il contrasto, arriva Bonacini e dice ha ragione, li manda nel panico, rimangono con la bocca aperta balbettando come, 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 come Salvini ha ragione? Non è possibile. Salvini ha sempre torto, no? Come diceva ieri uno del PD, ma no, Salvini non può dire cose ragionevoli. Salvini dice sempre cose sbagliate, tutte le cose che dice, anche se sembrano ragionevoli, sono strumentali. Ecco, capite che un partito che ragiona così non merita neanche un Bonacini. Ecco, parliamoci chiaro, Bonacini dovrebbe far parte di un partito come quello di Calenda, ecco, almeno Calenda è una persona tutta ad un pezzo. Ecco, e così, intanto Salvini in questo ci sguazza, ovviamente, e fa benissimo, no? Che dice, più che i litigi fra partiti, penso che vada premiata la concretezza. Oggi ho dato ragione a Franceschini, dice, se il ministro Franceschini dice di voler riaprire teatri e cinema e istituzioni culturali, io gli dico che ha ragione, anche se è del PD. E questa è una considerazione assolutamente intelligente. Quindi ringrazio Bonacini e gli altri sindaci. Ma anche adesso, se uno volesse, può andare a mangiare una pizza a pranzo con il distanziamento e tutto quanto, perché non può farlo a cena, si chiede Salvini, non ha senso, conclude. In effetti, Salvini, ho visto adesso un video dove stava al ristorante a mezzogiorno, l'una, le due, con la fidanzata, a mangiare a Roma all'aperto, no? Un giornalista dice che cosa mangia? Mangia carne cruda. Insomma, se Salvini può andare al ristorante, come tutti gli italiani, a mezzogiorno, perché non ci può andare la sera alle sette, alle otto? Perché fa gli assembramenti, fa la festa con gli amici? Capite che è una sciocchezza. Voi sapete che avevano vietato la sera i ristoranti perché non sapevano più come fermare la Movida, perché se gli chiudi il bar si spostavano fuori dal ristorante aperto, dalla trattoria, perché adesso non c'è più quella grande distinzione che c'era una volta tra bar, pizzeria e ristorante. Adesso è tutto un po' confuso. Il bar fa anche pizzeria, la pizzeria fa anche bar. Ecco, quindi per evitare questo avevano chiuso tutto. Chiudiamo tutto e non ne parliamo più. Ed è per questo che è la motivazione perché la sera i ristoranti sono chiusi, perché avevano paura che rientrasse nel calderone della Movida, ma non perché uno si siede al tavolo, perché se si siede a mezzogiorno va bene anche la sera. Bene, Bonaccini si era schierato dalla parte del leader della Lega sulla possibilità di cominciare a riaprire. Dopo il decreto Covid si lavora infatti al nuovo DPCM in vista della scadenza del 5 marzo. I fari sono puntati su bar e ristoranti. Bisognerà intervenire, dice il governatore dell'Emilia-Romagna, ospite da Mirta Merlino. È ragionevole il discorso di Salvini quando dice di introdurre una maggiore flessibilità per alcune categorie, laddove i rischi sono minori. Ad esempio i ristoranti la sera nelle città dove le cose vanno meglio. Alcuni Dem erano andati su tutte le furie. Dico a Bonaccini, diceva un fenomeno Dem. Dico che le proposte di Salvini non sono mai ragionevoli, sono sempre strumentali. Siamo in una fase difficile e la politica deve saper coniugare le esigenze del paese e quelle della lotta alla pandemia. Più che Salvini mi affiderei ai tecnici e alla scienza. Prima sconfiggiamo il virus, o come direbbe il virus di Maio, e prima i ristoratori usciranno dalla crisi. Dobbiamo sostenerli economicamente, non dilungare la loro difficoltà. Commentava Marco Miccoli, commissario del PD di Cosenza e vicino al segretario Nicola Zingaretti. Quindi diceva Salvini non ha mai ragione, mai, mai. Perché dite una cosa del genere? Lui è cattivo a prescindere. Lui ha sempre torto. Allora, una persona non ha mai sempre ragione e mai sempre torto. Nessuno, di nessun partito o fuori dalla politica, o nessun parente, nessun genitore, nessun figlio, ha sempre ragione o ha sempre torto. Ecco, c'era Mussolini che si diceva ai tempi il Duce non sbaglia mai, il Duce ha sempre ragione. Insomma, non c'è chi ha sempre ragione o chi ha sempre torto. E ci sono delle cose giuste, delle cose sbagliate che uno può fare o non fare. Quindi dire che Salvini non ha mai ragione è una stupidaggine di carattere colossale. E chi la dice significa che non ragiona propriamente, correttamente. E, attenzione, non c'è nessuno che ha sempre torto o sempre ragione. Anche voi, del vostro leader di partito, potete dire condivido l'80% delle cose che dice, un 20% sono delle cretinate. Ecco, e di quelli dell'opposizione potete dire condivido il 20%, l'80% no. Però si può condividere quello che dice Franceschini, Zingaretti. Non è che per forza, a priori, devono sempre avere torto perché io devo difendere il partito. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata.